Cresce l'attesa a Campobasso per la sfilata di domani degli Ingegni, una città in festa, allegra, colorata e rumorosa dopo due anni di silenzio a causa dello stop imposto dalla pandemia. La facciata del municipio e il centro storico sono stati imbandierati dall'Associazione Trinitari e Crociati. L'edizione 2022 dei misteri sarà quella della ripresa e della rinascita. In città già da qualche giorno sono arrivate le bancarelle dove trovi davvero di tutto, dagli accessori per la casa, passando per la bigiotteria, calzature, libri e poi ci sono i dolciumi, i prodotti tipici molisani. Bene, finalmente sì, perché ne avevamo proprio bisogno di stare a contatto con la gente e di vendere i nostri prodotti perché se no ci passava la voglia di produrre. Lei comunque è molisana, è una produttrice molisana. Sì, sono una produttrice molisana, per caso mi sono ritrovata a coltivare topinambur e ne sono abbastanza orgogliosa. Senta, come stanno andando gli affari in questi giorni? Allora, in questi giorni sta andando un po' a rilento, però speriamo bene. In giro la gente passeggia spensierata tra le bancarelle, senza la mascherina. Le persone sono di nuovo una vicina all'altra, senza più timore del Covid. Si fanno acquisti, si chiacchiera e i commercianti tornano a sperare. Buongiorno, è tornato a Campobasso dopo la pandemia, finalmente si torna a lavorare. Buongiorno, meno male, meno male che è tutto finito e si inizia a lavorare, meno male. Dopo due anni di stop. Lei da dove viene? Da Pescara. Insomma, come sono stati questi due anni? Un inferno. Adesso si inizia a respirare. Senta, come sta andando qui? Discretamente, via. Come si dice, la cittadinanza risponde. C'è chi si ferma tra i banchi anche solo per guardare, tanto per riprendere le vecchie abitudini. Come tornare di nuovo tra le bancarelle dopo due anni di assenza? Ancora non compriamo niente, dai. Ma vi piace l'idea di poter tornare finalmente a passeggiare? Sempre, sempre, sempre. E c'è chi invece, avvicinandosi l'ora del pranzo, si prepara a gustare un delizioso panino alla porchetta. Su tutti vigila la municipale affinché tutto si svolga senza problemi. Al momento non ci sono grosse difficoltà e grossi problemi. Ci sono vostri uomini e donne un po' dappertutto nei punti più importanti? Quei pochi che siamo, siamo tutti fuori in servizio, sì. Quindi si prevede magari qualche problemino in più durante le ore serali e anche domani? Il vigio serale perché sicuramente l'afflusso aumenterà, speriamo. E domani il grande giorno, lungo le vie della città, torneranno a sfilare gli ingegni dopo essere rimasti chiusi per 22 anni all'interno del Museo dei Misteri.